Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal vostro Draven, siamo giunti alla pubblicazione di uno dei video più importanti del canale. Qualche sera fa in live sulla piattaforma Viola, durante le ranked su Rainbow Six abbiamo incrociato uno degli streamer parra creator più conosciuti dalla community italiana del gioco. Sono partite offese, dissing, babbo ragazzi, un casino della madonna, non vi sto neanche a dire. No, questo è quello che volevate sentire, la verità è un'altra. Sarò cattivo e non vi farò il nome, ma ciò che vi posso assicurare è che con lui ho un rapporto normalissimo, non c'è nessun tipo di problema. E anzi, poterlo incrociare in ranked su Rainbow Six è per me una grossa sfida ed è qualcosa che in qualche modo attendevo da tempo. Non manca mai occasione per sentirmi dire che non sono all'altezza di certe partite, e probabilmente è vero. Eppure ho dimostrato che così non è, e l'ho dimostrato a me, anche se non ne avevo bisogno, ma soprattutto l'ho dimostrato a chi scrive commenti poco carini su di me, sia su YouTube che su Twitch. Per cui, qualora non lo faceste già, ne approfitto per ricordarvi che qui sotto in descrizione e sotto nei commenti in evidenza trovate tutti i link utili per seguirmi sui social, ma soprattutto sulla piattaforma Viola. In questi giorni avremo tantissimo da fare, da giocare, perché ci sono veramente tanti nuovi titoli che sto proponendo sul canale, quindi sarà molto, molto complicato, ma in qualche modo ce la faremo. E non dimenticate, sta per partire l'anno 7 di Rainbow Six, con la prima season, ne abbiamo già abbondantemente parlato durante il reveal e nelle scorse serate in live, quindi pronti, carichi, perché è lo start della nuova stagione. Partiremo a razzo con le ranked come il nostro solito, ma soprattutto andremo a anittare un rank che ormai è diventato nostro. A quale rank mi sto riferendo? Non vi dico nemmeno questo. Quindi, nulla, vi lascio al video. Dove la faccio adesso? In 90, sotto la telecamera. Arco, 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 relax, orchetto, fianco suoda, sempre, sempre, balcon interno, K9, no, K9, il balcon interno, che cazzo si chiama? Come la chiamate questa? Come la chiamate questa? K9 da chalet, come la chiamate da... Balcon interno? Il balconcino, il balconcino, che è tuo, vaffanculo. K9 da chalet l'ho preso. Relax e clear. È ancora lì, eh. Sì, relax e clear. Porta, 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 porta. Uno su scale metal, scale metal uno. Eh, stai, 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 stai. Madonna. C'ho la cam, c'ho la cam, relax, c'ho la cam, relax. Ho sentito il sound tuo, tu giuro. Ok, uno, uno è alfo il metal. Alfo il metal. Uno alfo il e l'altro alfo il metal. Vado. Aspetta, aspetta, Raffo, non morire, non morire. Non morire, non morire, Raffo. Viagra rittato. Sono a terra io. Sto di lavare le mattelle. È impossibile che ti rientra. Ma fatto, ma fatto, ma fatto, ma fatto. Buonissimo. Ok, Raffo ha un HP, eh. Uh! Invece ne abbiamo fotti. Hai 50 secondi, giocatela. Hai 50 secondi, Kenji, giocatela. Ma ora fai tranquillo io, va. Ma adesso non l'HP, eh. Lascia, lascia, lascia il drone. Così non vediamo un cazzo. Oh, ma chi ha? No, no, vediamo, vediamo. Vabbè, occhio stanzino. C'ho Sisi, eh, c'ho Sisi. Dov'è il... Dovete stare... Devi stare attento al stanzino. Fate lo giocare, vabbè. Fate lo giocare, vabbè, fate lo giocare. Sì, è curato, eh. È close. Bravo, Kenji. Ti sentivamo in ansia e volevamo metterti un po' più di ansia. Calma. Ma... Io capisco tutto. Ma security prendiamola, no? Ancora quello in security? Sì, c'è un in security, eh, lascia. No! Oh, davo il dor sotto. Perché altro sono entrato da solo? Buono. È in archivi, in archivi l'ultimo. Abbiamo il drone per il plant, se vuoi. Allora, abbiamo il drone qua su ping 3. Quindi se arriva a close all'armadietto ce l'abbiamo, eh. Ok, è sandwich, sandwich, sandwich. Arriva, arriva, alful, alful, alful. Alful. Ping 3, fermo in ping 3. No, non perché col rosso, ragazzi. Ricarica, ricarica, Mirko. Madonna del Dio. L'ho pushato, sapevo il messo in gava quella smoke. Occhio custom, occhio custom. Ma? Workshop. Workshop? Oh, calma, workshop. Oh, mi sono bloccato. Qual è workshop? Ping, ping. Ping, ping. Ping uno. Ping Carlo. Entrambi, entrambi i workshop. Entrambi, entrambi. Wallbang al minuto. Paracolo, paracolo. Arriva a porto più. Il corridoio, corridoio, va verso Passport. Porto. Cusce il signo. Hanno brecciato, eh. Con calma, con calma. Sto ping, sto ping. Wallbang. Sto ping, sto ping, sto ping, sto ping, sto. Fatto. Morro, capucca. Bravissimo, Raffo. Moro, moro. Madonna, Raffo, lei. Pumma. Morto, nomad. È ancora lì, Osa? Ma che cazzo è Osa? Non capisco. È fuori me. Morto, Osa. Morto? Ok. Ovest. Ovest. Buona. Bravi. Est. Ovest. Passo giro di camera. Boto la cosa, Office. È dentro il bagno di Office. Morto. Mamma mia. Defuse. Ma non cazzo. Abbiamo l'ultima colle. Un è fuori, un è fuori, sopra le bus. Down call. Buona. Ma che è sta roba? Ma che è sta Mirko, sta cosa? Ti prego. Ti prego. Non lo so, l'ho sentito lì. Ma... Ah, io l'ho sentito sdraiato, infatti non capivo dov'era e ce l'avevo dietro di me. Io ho palesemente sentito uno droppare e ho detto vabbè. Anch'io, ce l'avevo dietro, mica l'ho capito. Stasera si hita il diamond, no, lo vedo molto grigio. Ma? Non è normale sta cosa, dai. Minchia, Bommax. Sì, ragazzi, sono contro Bommax. Ma no, ah, regà. Oh, siamo italiani tutti, eh. Nel senso, ormai Platino 1, l'MMR. L'MMR è alto, è normale che lo troviamo. Sì, è Bommax, ragazzi. Dio canarino. E lui. Boh, minchia, adesso dobbiamo partire. Oh, ma sei... Bommax! Raga. Buona, cioè, oh. Minchia. No, il problema... Amma mia, ogni volta che si trova qualcuno. Oh, ma sei contro? Oh, mio Dio, oh, mio Dio... Oh, orcodia. Il problema è che è col main. Se fosse stato con lo smartphone, tanto trollavano. Quindi va a fine che vincevamo pure. Però col main mi sa che... Oh, minchia. Matteo, buon marito. No, un atto. Arriva anche là. La storia dell'abbassare MMR. Oh, mio Dio, abbiamo un Dio. Oh, mio Dio, questa è persa. Sì, ok. Però, ragazzi, prima o poi bisognerà giocare con gente che c'è coglioni, che sa giocare, eh. Che c'ha le mani. Che sì. Vabbè, anche guarda che loro... Cioè, deve un po' finire la... La caga di dover giocare contro Tizio, Caio e Semperonio, perché altrimenti è per sicuro. No, ma non dico a voi, dico in generale. No, no, ma tanto Raph, cioè, lo stanno facendo anche loro. Cioè, Bonmax, Diamante 1 e gli altri Platini 1. Dovrò, cioè, prima su console mi potevo permettere di giocare contro i diamanti, perché c'avevo le mani su console. Su PC, prima o poi dovrò averle le mani per giocare con gente come Matte, no? E allora? Eh, che cazzo. Uno stati. Due stati. Due stati. Uno fuori e uno sulla porta. Due fuori e uno sulla porta. Uno vanain. IQ valente. Ancora sulla porta? Sulla porta? Sulla porta? Sulla porta? Non posso laggar così. Avete top 2, top main? Oh, un landing, landing. Ci picca. Eh, ma sto laggando anche la... Zombie, c'è entrato in strike. Chiudere la porta, capò. Buono. IQ arriva a zombie. IQ, dentro, ma è un po' di bordo. Ah, ha pushato. Un... Eh, vabbè, ma è distrutto. Bravo. Ho visto venti minuti dopo. Adesso, giustamente. Un altro, un altro, un altro. Fatto. Un altro, ma? Avete 90? Avete cam 90? Sì. Uno è stanchino. Ma questo sta sotto. Uno è sotto, uno è sotto. Viene astro. È sulla porta di master, è sulla porta di master. Adesso sui bugi, sui bugi. Guarda bagno. Oh, io porto bagno, Raff. Con la cam. È entrata, è entrata, è entrata. Sul ping, sul ping, sul ping. Sul ping. Fatta. Porta bagno, l'ultimo bagno. Porta bagno. In piedi sul ping. Buono, buono. Non piccarlo, eh. Spottatelo, spottatelo. Non spottatelo, è il rosso. Spottatelo il rosso. C'ha 20 secondi. È sui bugi, è sui bugi. È bagno, 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 bagno. Porta bagno. Fatto. Minchia, ma a me giocare con matte. Per quanto possa essere molto complicato per me fare giocate buone. Minchia, ma a me diverte. Cioè, finché ho gente capace, che so che sa giocare. Closer pulita, bedroom pulita. Non ho vision support a bedroom. Vabbè, droniamo, dai, poi ne prendiamo. Bagno pulito. Potevo uccidere il bomb, ma mi addisco. Scale astro pulito. Astro pulito. Bagno, bagno. È arrivato dopo, è arrivato dopo. Vabbè, mi ha volpengato. Dov'era, dov'era? Bagno. Non lo so, non lo so. Era nella doccia. Era nell'angolino. Nell'angolino doccia, forse non l'ho visto. L'ho mistato io. Uno arriva landing. Porta stat. Non è vero. Wolf. È in trofio. Vabbè. Ho sbagliato io? Non lo so. No, lo dico sempre, di aspettarci con i droni. Deve avere uno dietro che ti segue il droni. Ma non ci credo. Protection. Non lo so. 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 L'ho mistato io in doccia o è arrivato dopo? Non so. No, è stata dentro la vasca. No, la vasca l'ho guardata, merca. Allora, boi. Era nell'angolino della doccia. Ok. Eh, close. Close porta, close porta. Jäger. C'era una zombie. C'è uno in bagno, raga. C'è vigili in bagno, eh? Allora, l'ultimo. Con salvo, a minuto e 40. Posso plantare? Planto. Aspetta. Guardo bedroom mio, io ho bedroom. Sì, io lo sento. Ah, sento la mia rotodroneasse. Ok. Sto plantando, eh? Buono, bravo. Kenji, si prende il round sulla schiena. Avanza, avanza. Stai di creare, avanza. Vedi zombie, vedo zombie. Dimmi un po' bagno. Bagno era pulito, eh? Bagno è pulito, bagno. Ok. Close porta, close porta, stato è pulito, eh? No, no, c'è uno. No, no, c'è uno, c'è uno adesso. È arrivata adesso. È su ping, è su min 4. Su min 4. Mollato, ha mollato. Ok, ha mollato. Ehi, bomba. Vuoi brecciare, Raffo, vuoi brecciare, brecciare, Raffo. Arriva, arriva. Dov'è il thunderbird? Morto avalto. Non lo so. Morto mute. Drono da bagno. Oh, è salito. Morto, morto. Statua pulito, statua pulito. Animali pulito. Animali pulito. Astro, 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 astro. In fondo, sotto il proiettore. In mezzo, in mezzo. Mi coprite, va dal plant? Sì, sì, sì. Guardate, guardate, guardate. Cover. Non ho plant. Ah, bravi, bravi, bravi. GG, GG, GG. Bravissimo. Buona. Bravi, bravi. In generale, la gente non capisce il fatto che qualsiasi partita è gestibile. Poi, per carità, io qua sono in mezzo ai grandi. Senza problemi, lo dico. In questa lobby c'è più skill che non altro. Quindi, sinceramente, sono l'ultima persona che può parlare. Però, fino a prova contraria, come gruppo, siamo riusciti a gestire. Adesso, vediamo se riusciamo a fare anche qualcosina in più. Ok, c'hai tu? Ok, guarda, animali. Ok, animali pulito. Cervo pulito. Wolf, wolf, wolf è entrato ora. Ho fatto il drone. Bravi, ragazzi. Non ho drone, eh. Non avete vision. Non avete vision, da parte mia. Bravo, Mirko, GG. Drone, drone, Mirko. Wait, 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 wait. Guarda, zombie. Swinga, swinga. Guarda, sto dronando io. Sto dronando io. No, sto guardando io. Uno dietro divano. Divano, divano aviator. Divano aviator. Bridge aviator. Divano, divano. È entrato in rotation. Entrato in rotation. Lascio il drone. Potremmo andare anche a plant, volendo. Mi dovrete ristruggere quel menu. Un attimo, che drono. Bravo. Un attimo, un attimo, un attimo. Fammi dare l'ultima call. Biliardo, 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 biliardo. Sì, sì, biliardo. Vado? Bravi, ragazzi, GG. Lo sento sotto, Anna. Sotto, sotto Astro, sotto Astro. È entrato in closet. Sono stannato. C'è l'oglio Astro, eh. Da la cam. È uno sotto, uno sotto, uno sotto. Sì, sì, sì. È entrato. Ma che è morto. Guardami la cam, guardami la anti. Und? Morto, Iana, closet. Senti, eh. Sì, sì, guardate la anti. Ah, sì, c'è. Un è scale Astro, mi sa. Sì, si dovete coprire lì. Io dico, bro. Scale Astro. Uno supporta, supporta, eh. E di cangi, gira, di cangi. Roser. Ok. Da me, da me, da me, Astro, Astro. È entrato. Astro. Casse, casse, casse. È tornato il bagno, è tornato il bagno. È bagno, è bagno. Non credevo dei piatti lì. Bedroom, Bedroom. Porta. Al diffuser. È davanti al diffuser. È lato. Su ping, su ping 4, è fermo. Picca. Bravo! Bravissimo. Sono un coglione, sono un coglione. Mezzo throw questo, ragazzi. Occhio, eh. Io dovevo switchare sulla Deagle. Potevo farmela, e che ho sbagliato tutto lì, cazzo. No, l'ho intratta io. No, no, ho sbagliato io su Astro. Potevo switchare sulla Deagle, avevo il fight. Io avrei rischiato il danno. Fuck. Bravi, ragazzi. Col turbante. Mei goglioni. Se c'ho Bomax contro, sì, cazzo che uso il turbante. Già lo uso di mio, di base, proprio su quando tryhard e quando gioco in ranked. A me diverte giocare così, ragazzi. Non so che dirvi. Poi, se c'ho Bomax ho motivo in più di giocare ancora al meglio. Ancora di più. Se c'ho gente come Bomax, ancora di più. Eh, Bomax full troll. Ragazzi, tanto guarda, vi giuro, a giocarci le palle, ok? Tanto se avessi perso, avessi preso il cazzo, avreste spammato, hai preso il cazzo con Bomax. Stranamente, adesso che abbiamo vinto, eh, full troll. Ma a me basta un Bomax. 1v5 è Bomax, ci apre il culo, ok? A me basta Bomax, mi interessano gli altri, me ne vogliono gli altri, per carità. Però a me basta Bomax in game. Mi basta lui per farmi fare il culo. E me l'ha fatto, tra l'altro. Però, stranamente, stranamente quando c'è del positivo, quando c'è del positivo e del buono da dire, tutti zitti. Non si dice mai nulla. Il fatto che abbiamo giocato da Dio non lo fa notare nessuno. Guardate ragazza di culo, va.